Buongiorno amici, buon 19 aprile, oggi è la festa della misericordia. Oggi volevo parlarvi della bomba atomica, allora partiamo dal 1945, ma basta! Come basta? Ma di qualcosa di un po' divertente! Sì, ma dai che sto registrando adesso! Ma sei palloso! Palloso perché? Perché palloso? Racconta una barzelletta! Eh, una barzelletta, raccontala te! La racconto io! C'è una signora che va dal dottore e chiede al dottore di fare qualcosa per suo marito. Dottore, dottore, mi aiuti, mi aiuti per mio marito! E il dottore fa. Perché? Cos'è successo? E mio marito quando ha l'orgasmo urla! E il dottore gli disse, vabbè, ma non è una cosa grave, lo fanno in tanti, ma qual è il problema? E il dottore, il problema è che mi sveglia! Eccoci qua! Vabbè, a me non ha fatto ridere! Ciao ragazzi!